Fratelli d'Italia e SEL, che sono due partiti collegati ai due grandi partiti del bipolarismo, ha detto Telese, prima Meloni e poi Fratoianni, ha detto Telese che voi siete fondamentali in questo momento perché potete tenere ancora un pochino in piedi il bipolarismo oppure no. È vero? Beh, sicuramente... Posto che siete delle costole, diciamo, del partito... Io chiaramente parlo per Fratelli d'Italia e sicuramente la scelta che noi abbiamo... Vediamo dove diavolo è finito Parenzo, poi parti subito... Ah, lui ti rompi subito la Meloni? No, no, volevo scoprire perché lui non sappia mai dove va a finire. Davide, dove sei? Stava rispondendo la Meloni e tu hai produttoriamente cambiato canale. No, vabbè, sì, no, dicevo che chiaramente io rispondo per Fratelli d'Italia e ovviamente per noi è di rimente fondamentale mantenere in Italia il bipolarismo e difendere il bipolarismo che con tutti i limiti che ha, perché noi abbiamo sicuramente un bipolarismo imperfetto, si dice un bipolarismo muscolare che comunque deriva, diciamo, dalla immaturità della classe politica e l'immaturità della classe politica purtroppo ce la teniamo indipendentemente dal sistema che abbiamo. Comunque è una realtà migliore di quella che c'era prima dell'avvento del bipolarismo perché con tutto il nostro bipolarismo imperfetto io non rimpiango i 51 governi in 48 anni della Prima Repubblica, i governi balneari, quelli che ci hanno regalato il terzo debito pubblico del mondo, insomma tutto quello che noi sappiamo. Noi sappiamo anche con questo bipolarismo, essendoci la lista di Monti e dei centristi, è molto probabile, poi andiamo anche su Platoianni, arriveremo sicuramente a un'instabilità perché non è detto che vinca la sinistra al Senato. Ma guardi che è il motivo per il quale io ho già detto, poiché secondo me il tentativo di Monti di riproporre, poi non gli riuscirà perché Monti non ha fatto i conti con il fatto che è terribilmente inviso al popolo italiano, forse se ne sta accorgendo in queste ore, ma quando ha tentato di organizzare la sua nuova balena bianca tecnocratica, ammiccando un giorno al centro-destra e un giorno al centro-sinistra, lo ha fatto lungo tutta la campagna elettorale, il tentativo è stato quello di riproporre la politica dei due forni già vista, durante la prima repubblica, cioè io comando comunque, poi vediamo chi prende più voti e quindi chi mi può essere più utile, motivo per cui io in un sistema bipolare e bipolarista da difendere, proverai a fare un patto, proporrei un patto d'onore tra la coalizione di centro-destra e la coalizione di centro-sinistra per in nessun caso fare accordi con Mario Monti, perché per noi sarebbe drammatico, certo, perché per noi sarebbe drammatico rinunciare al bipolarismo e consentire, poi fortunatamente non lo consentiranno gli italiani e quindi il problema è che... Ma se il capo della vostra coalizione ve lo chiedesse, l'ha già fatto una volta, bisogna fare il governo di salvezza nazionale, non ci sono i numeri... Io ho detto e ripeto che una delle cifre di Fratelli d'Italia all'interno della coalizione di centro-destra è che se noi saremo forti all'interno della coalizione di centro-destra i margini per fare un nuovo governo di inciucio con la sinistra, i margini per sostenere un'altra volta un governo dei poteri forti come quello di Mario Monti non ci sono, è uno dei motivi per i quali io non sono, come tutti sanno, non sono stata d'accordo con le scelte che ha fatto il popolo della libertà nell'ultimo anno e penso che i risultati, diciamo, del lavoro di questo governo siano sotto gli occhi di tutti, quindi in nessun caso ci sono i margini per quello che mi riguarda di prestarmi nuovamente a far massacrare l'Italia da un governo dei poteri forti, di gente che prende ordini dalla Germania, oltretutto voglio dire l'endorsement di tutto il governo tedesco e del presidente tedesco del Parlamento europeo a favore di Mario Monti, ce la dicono lunga, su di chi sia l'interesse di far governare a Mario Monti l'Italia. Posso fare mezzo ragionamento di sistema perché noi trattiamo sempre questa vicenda che tiene in ostaggio l'Italia da 70 anni, cioè il fatto che noi avendo una Costituzione che vieta il mandato imperativo e che quindi consente la libertà del parlamentare abbiamo di fatto in ogni legislatura da sempre avuto una pattuglia di parlamentari che passano una parte all'altra tra maggioranze e opposizioni e che significano ingovernabilità, instabilità. Quando è accaduto quello che è accaduto all'interno del PDL che Frantoianni considera una buona cosa perché chiaramente quello indeboliva il governo Berlusconi e differentemente non sarebbe stato d'accordo perché chiaramente ognuno lo interpreta sulla base del proprio interesse. Però vogliamo dirci che un governo che fino a quel momento aveva lavorato bene da lì non è riuscito più a lavorare bene e che questo lo stanno pagando ancora gli italiani perché noi abbiamo dovuto chiamare Mario Monti a un certo punto perché il centrodestra fece l'errore con il senno di poi di non andare subito a votare e cioè ce lo vogliamo dire che lo hanno pagato gli italiani allora io banalmente voglio dire una cosa scusate e vabbè su questo poi mi rispondi fatemi finire come io voglio dire una cosa io voglio fare un ragionamento di sistema io vorrei dire che se tu ti fai dare un mandato dagli italiani ad essere eletto con un partito e soprattutto all'interno di una coalizione e decidi che a un certo punto quel mandato che ti sei fatto dare dagli italiani non lo vuoi più portare avanti perché sei in dissenso penso banalmente che ti devi dimettere e chiedere un altro mandato agli italiani che noi dovremmo fare una legge il singolo parlamentare le dice il singolo parlamentare io penso che ci che questo salvaguardi la libertà del parlamentare ma salvaguardi anche il diritto degli italiani ad avere delle maggioranze che poi siano nella condizione di governare senza far comandare sempre quelli che si fanno la compravendita in Parlamento io voglio chiedere a Razzi sono scatenati i nostri ascoltatori che vogliono sapere qualcosa di più sulla topografia di Razzi ma devo dire alla Meloni Razzi l'ha lanciato un quanto di sfida perché ha detto io ho lavorato 40 anni voi siete ho una superiorità in qualche modo morale rispetto a voi figli della politica di professione si sente scalfita da questa accusa e dal caso Razzi in generale? Io non conosco la biografia di Antonio Razzi non ho letto il libro e chiaramente lo conosco perché l'ho conosciuto nella scorsa legislatura se posso dire insomma con la simpatia che ho per Antonio Razzi che sicuramente insomma testa questa simpatia da parte di molti che però insomma penso sia arrivato il tempo di dire basta alle liste bloccate penso che sia il tempo di far scegliere i parlamentari agli italiani penso che questa sia una sfida sulla quale tutta la politica non entro nel merito delle scelte che ha fatto il PDL chiaramente se io dovessi dire la mia con la simpatia che ho per il collega Razzi ci sono stati altri colleghi che non sono stati diciamo ricandidati in posizione elegibile che io avrei candidato prima di lui per storia per identità Ma perché? Cosa ha lui? Però ognuno fa... beh vabbè io avrei candidato diciamo prima quelli che sono sempre stati dalla stessa parte mettiamola così diciamo per identità io sono portata a premiare quelli che rimangono dalla stessa parte Che sono stati eletti col PDL già l'altra volta dice lei Che sono stati eletti col PDL e sono rimasti tutta la legislatura col PDL che magari hanno fatto bene il loro lavoro perché ne ho conosciuti tanti che magari sono stati fatti... Un nome? Due nomi? No, non farò i nomi perché non sarebbe... No come due esclusi? Vabbè ma insomma non... Aiuto io alla Meloni? Sì Urso? Ronchi? Ma non solo ma guardi sicuramente tanti che vengono dalla storia degli ex AN Perché lì è stata fatta... Tutti gli ex AN sono stati trucidati Esattamente Ma questo chiedetelo chiaramente al PDL Ma voglio dire anche non andando sulla storia degli ex AN Penso a Lella Golfo Cioè voglio dire che ce ne sono tanti che non sono stati ricandidati in posizione elegibile che comunque hanno fatto bene il loro lavoro che hanno portato a casa i risultati Io avrei candidati prima di Razzi Dopodiché proprio perché le segreterie di partito purtroppo non scelgono sempre meglio degli italiani Io direi facciamo scegliere gli italiani che così risolviamo il problema Lei può ammettere stasera che però è stato messo in lista comunque per il voto che ha dato a Berlusconi nel momento della difficoltà? Possiamo ammettere questo? No, ho messo in lista per quello che ho reso al Parlamento perché ho lavorato Non mi fate questi brindiani e la Meloni che sembra scettica Perché è scettica la Meloni? Io non sono scettica, l'ho già dichiarato insomma però effettivamente non vorrei fare la puntata su questo Io posso dire che ho fatto un movimento dove ho candidato prioritariamente quelli che vengono dal consenso sul territorio perché credo che si debba ripartire dal consenso degli italiani Facciamo scegliere agli italiani e forse risolveremo molti problemi Io posso dire ecco solamente questo Che non condivida alcune scelte che si fanno, questo si sa Ti devo però dire Meloni, il tema della giustizia è un tema che con Berlusconi aveva una specificità Il vostro partito? Beh che il tema della giustizia sia un tema che in Italia va affrontato Questo non è che è un problema politico nel senso di una parte politica Se noi chiediamo al 100% dei cittadini italiani 100% dei cittadini italiani ci risponderà che in Italia c'è una giustizia inefficiente perché così è, lo dimostrano i tempi dei processi e quindi che bisogna metterci mano, chiaramente non abbiamo dubbi Che ci si debba mettere mano anche nel rapporto tra giustizia e magistratura e politica è un'altra grande questione perché io che ho fondato un movimento politico rigidissimo sul tema di come ci si deve comportare rispetto ai propri rappresentanti che sbagliano noi abbiamo scritto nel nostro atto costitutivo che non candidiamo neanche i condannati con sentenza di primo grado e le dico di più io sarei disposta anche a non candidare gli indagati se però noi avessimo un sistema di responsabilità complessiva della classe dirigente di questa nazione nel quale da una parte la politica dice io tengo fermi un giro anche gli indagati e dall'altra parte i magistrati accettano una legge sulla responsabilità civile dei giudici una sul giusto processo e una sulla separazione delle carriere perché se io mi posso effettivamente fidare al 100% della magistratura allora io posso anche essere specchiato perché il rapporto difficile che c'è stato fino ad oggi tra magistratura e politica ha fatto perdere credibilità alla magistratura e ha impedito alla parte buona della politica di difendersi da quella malata perché tanti si sono poi nascosti dietro la persecuzione dei giudici per non mettere mano a quelli che all'interno dei loro partiti in realtà si nascondevano per fare i comodi loro quindi a me piacerebbe che la prossima legislatura fosse una bella legislatura nella quale facciamo un grande accordo su questo il pagamento resta ma per chiudere il blocco qui in studio con gli ospiti di Serevano cosa voleva dire la Meloni di Sanremo che c'entra Sanremo? perché vuole dire qualcosa su Carla Bruni? voglio dire che sono assolutamente indignata però voglio dire che ho scritto una lettera al presidente della RAI per dire che sono assolutamente indignata del fatto che il festival di Sanremo inviti e che quindi al festival della canzone italiana venga invitata una signora nota unicamente per aver dichiarato che si vergognava di essere cittadina italiana e per aver tentato e per aver fatto la sua parte nel negare l'estradizione di un assassino come Cesare Battisti che in Italia deve scontare più di un ergastolo per aver ammazzato un po' di brava gente durante le sue rapine e che il fatto che noi invitiamo una persona del genere al festival di Sanremo francamente mi farà brividire con cosa chiudiamo per salutare Fratoianni? voi perché in onda continua con l'intervista esclusiva a Robledo francamente dopo questo passaggio di Sanremo diciamo resto un po' senza parole credo che Carla Bruno sia stata invitata perché ha fatto la cantante nella vita ah ecco, ah beh un grande talento musicale universalmente conosciuto ma guarda ce la litigano proprio ma non conosce neanche una canzone di che la litigano ma non è questo il punto ha venduto milioni di dischi ma neanche madonna ha successo nel mondo un successo incredibile stai scherzando chiudiamo 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 augurando a questo paese di immaginare che dal 25 febbraio di avere un po' di orgoglio che dal 25 febbraio c'è un'altra strada di avere un po' di orgoglio per non farsi ridere in faccia anche da Carla Bruno noi ci auguriamo che dal 25 febbraio questo paese cambi strada e chiude una brutta pagina della sua storia grazie